Hashtag Consiglio, tweet dal Consiglio provinciale di Trento. di controlli e verifiche da parte della provincia e di Appa, ben prima del deposito della petizione. L'attività della Mazzotti è infatti produttiva da numerosi anni e la serietà è d'obbligo sia nei confronti di chi ha rilevato i disagi, che della ditta che sempre ha garantito correttezza e impegno nell'operare in modo il più possibile attento all'ambiente e al territorio. I lavori proseguiranno con l'ascolto dei referenti della petizione della ditta Mazzotti e di Appa. Si svolgerà la prossima settimana in aula su richiesta delle minoranze del Consiglio provinciale una comunicazione della Giunta sulla vicenda del nuovo ospedale del Trentino, sulle ragioni della bocciatura del progetto indicato come vincitore e sulle soluzioni che si intendono adottare al riguardo. Sempre le minoranze hanno poi chiesto ed ottenuto dai capigruppo una convocazione straordinaria del Consiglio provinciale programmata nel pomeriggio del 16 maggio prossimo in merito alla proposta di partenariato pubblico-privato per il rinnovo della concessione dell'A22. Diffuso apprezzamento è venuto in seconda commissione permanente dalle audizioni di Agenzia del Lavoro Cooperazione Imprenditori al disegno di legge dell'assessore Spinelli che ridisegna il modello del progettone con l'obiettivo di superare la logica dell'accompagnamento alla pensione dei lavoratori disoccupati, puntando al possibile reinserimento delle risorse umane nel mercato del lavoro. Preoccupazioni sono state espresse dai sindacati che hanno messo in guardia dal rischio che con la riforma si possa perdere la funzione sociale del progettone. Ashtag Consiglio, tweet dal Consiglio provinciale di Trento